Una partenza col botto, l'importante è non esagerare, mantenersi concentrato, non farsi prendere troppo dalle emozioni, solo così si riusciranno ad accendere le speranze dei fan. L'estadio di Obregao sorge a Oport, una città di mare, non è quindi una sorpresa che il blu sia il colore dominante. La palla entra in aria, cerca di pescare il compagno confitrante, Ramirez, Gabbiadini e c'è qua per la Sampoglia, prima rete per la Sampoglia. Conclusione potentissima, il portiere è battuto, ha impresso al pallone tutta la sua forza, una sassata imparabile. L'Atalanta apre la stagione già all'insegnamento, scatta verso il pallone. Alejandro Gomez, ottimo passaggio deve tirare, Zappata con lo scatto. E lo ha reagito benissimo, l'oppereggio mi sembra assolutamente vero. C'è Dio! E hanno sfiorato il pallone. Con la rete, attenzione al tiro. E la palla entra in ruota. C'è qualcosa in più là davanti. Cerca lo spunto, Pesalic! A provare a disperare la manovra. Gabbiadini! Conclusione c'è. Tonelli. Palla lunga a cercare il compagno in avanti. E l'arbitro chiude qui la partita. Tre punti importanti. Per cominciare subito bene, benissimo dire questo campionato. Per concludere l'analisi, a te invece che partita sembrava l'Italia. Vincere la prima partita.